Per il fan club Lombardia, per le perpetue, le mie perpetue, Vecchio e Brinido, eccola qua, per voi. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile. Come stai? È la domanda più facile. Come stai? È la domanda più facile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Come stai? È la domanda più facile, ma lo so che la risposta è difficile. Scusi di noi un vento di noi